Io non conosco nulla di questa vicenda perché ho appreso ieri da un flash dell'agenzia ANSA e quindi ho letto quello che avete letto voi. Chiaramente ho fatto il magistrato per tanto tempo, oggi faccio il sindaco, un'idea me la sono fatta. Noi da quando siamo entrati a Palazzo San Giacomo abbiamo scardinato un sistema. Tra questi c'era la vicenda Romeo, c'è dubbio. Quante volte abbiamo detto che intervenire su quella vicenda, internalizzare la gestione del patrimonio è stato rompere un grumo, un grumo che portò anche a vicende giudiziarie molto complesse dove al di là dell'esito penale si comprendeva la capacità tentacolare di Romeo di arrivare ovunque. Quello che leggo non mi meraviglia, così come ho sempre detto che in questi anni, anche prima quando facevo il magistrato, hanno fatto, stanno facendo e faranno di tutto per farmi fuori da un punto di vista istituzionale. Questo l'ho sempre pensato, quindi non lo dico ora. Vediamo qual è il contorno e il contesto di questa vicenda. Per ora rimango cauto perché tra l'altro, come sempre, mi affido all'autonomia, alla professionalità, alla competenza della magistratura napoletana. Oltre a Romeo si parla di avversari politici, sindaco. Oltre a un'idea, qualche sospetto ce l'hai? No, ma sai, gli avversari che ho all'interno dell'istituzione della politica non sono pochi. Quindi qua anche lo affido alla magistratura che deve valutare. Certo, noi abbiamo visto una campagna elettorale dove, anche qui detto, quindi non stiamo parlando di cose che dico ora, hanno fatto di tutto per gettarmi fango addosso, per screditare, per colpire, per diffamare. Quindi questa cosa non mi meraviglia, ma se così è, è semplicemente una punta di un iceberg. Perché ogni giorno verifico quello che cercano di fare per farci cadere. Quante volte l'ho detto ed è per questo che lo dico sempre pubblicamente, perché i cittadini devono essere informati di quello che accade. Quindi io ogni volta che noto qualcosa di particolarmente grave l'ho sempre sottolineato. Però, chiaro che adesso ho necessità anche di comprendere che cosa è accaduto, anche perché parliamo di persone che hanno lavorato lavorano all'interno del Comune di Napoli. Che non è proprio una cosa, una bella notizia, perché sapere che ci stanno all'interno del Comune di Napoli persone che invece di lavorare costruiscono attività di tosseraggio contro il sindaco eletto dal popolo, insomma non è proprio una cosa da sottovalutare. Se questo è il contorno potrebbe essere anche più grave. Saranno presi i provvedimenti per questi... Vediamo. Ma noi già lo dissi qualche giorno fa, mi fecero una domanda e dissi come sempre quando c'è un'indagine, fermo restando l'assoluta presunzione di non colpevolezza, perché parliamo di un'indagine preliminare, ma è evidente che quando ci sono indagini particolarmente delicate, prima ancora che accadesse questa cosa, già l'altra volta io mi sono espresso dicendo che è assolutamente opportuno persone che sono coinvolte in un determinato filone di indagini e non si continuano ad occupare di quelle vicende. Guardate, la vicenda Romeo, quando l'abbiamo affrontata, è stata una cosa enorme. È stata una cosa enorme perché anche la capacità di correlazioni, interrelazioni, rapporti e cointeressenze che noi abbiamo verificato è stata incredibile. È stata una vera e propria battaglia, chiamiamola in questo modo, istituzionale, democratica e fino anche politica. I collegamenti, i contatti, le alleanze che quell'imprenditore ha costruito negli anni nella nostra città e non si pensi solo alla politica, sia ben chiaro, sono davvero tante.